Lo sport incontra la psicologia per formare gli atleti, l'esperienza tra il Frosinone Calcio e la Boys Roccaravindola. Vediamo. Formare gli uomini e gli atleti allo stesso modo. E' questo l'obiettivo che la società SD Boys Roccaravindola sta portando avanti nel suo variegato mondo e all'interno della propria scuola calcio riservata a varie categorie. Grazie alla collaborazione con il Frosinone Calcio si ripetono sul campo molteplici attività con cadenza mensile. Come spiegato da Roberto Guerra, direttore del progetto Accademie Ufficiali del Frosinone Calcio. Dopo due anni e mezzo, perché ancora il terzo deve finire, cominciamo a raggiungere qualche risultato importante sia a livello numerico che devo dire anche a livello qualitativo che è la cosa più importante per quanto riguarda poi gli istruttori e la società. Beh, a Frosinone il progetto sui giovani è un progetto che parte distante da qualche anno. Noi puntiamo molto sui giovani perché credo che lavorare sui giovani sia il futuro poi di una società. L'aspetto educativo sociale è al centro di questo progetto dedicato ai più piccoli che devono imparare a fare gruppo e a comportarsi al loro interno. Come spiegato dalla psicologa dello sport, Maria Letizia Proia. Sicuramente ci vuole molta sensibilità, nonostante gli istruttori generalmente sembrano siano chiamati a fare sport, quindi a insegnare sport, però prima di tutto si insegna a stare con gli altri e quindi a vivere il gruppo, per cui la prima cosa che consiglierei è quella proprio di educarli alla sensibilità, quindi allo stare insieme, al rispetto delle regole insieme, al fare gruppo, quindi a insegnarli proprio a stare nel gruppo nel modo giusto. Quindi questa è la prima cosa. Il calcio probabilmente viene dopo. Compito molto delicato che durante le sedute di allenamento e le visite ufficiali del Frosinone spetta ai tecnici del settore di base, come spiegato ai nostri microfoni da Marco Zullo. Abbiamo iniziato da poco un progetto all'interno del Bosso Roccaravindola con l'ausilio di una psicologa, ma questo non perché abbiamo, insomma, molte volte si associa a quello che può essere uno, diciamo, uno è matto, allora chiama la psicologa. No, cerchiamo di smussare quei caratteri che sono all'interno della scuola calcio, soprattutto quelle problematiche di comportamento, ma questo non perché non c'è educazione, ci tengo molto a sottolineare questo aspetto, non perché non c'è educazione all'interno delle famiglie, ma cerchiamo, visto essendo un gioco di squadra, quindi molte volte la collettività, quindi queste dinamiche di gruppo hanno magari delle problematiche e con l'ausilio di queste persone cerchiamo di affrontarle e risolverle nel migliore modo possibile.